Buongiorno da Luigi e da Dorian, ai nostri amici Samuele e Jacopo. Dorian, oggi siamo qui, Dorian adesso va a volare i furi, però dopo salutiamo. Dorian, vieni sullo scivolo qua, vieni a salutare i nostri amici Samuele e Jacopo, d'accordo, allora ti aspettiamo, adesso Doria viene a salutarvi da vicino. Si sta organizzando, sei pronto? Per venire qua? Vieni un attimo, vieni a salutare i nostri amici, vieni. Bravo, dammi il 5, yes, fagli vedere le ali, e saluta con la mano. Bravo, e come fa il cagnolico? È la pecora? Bravo Dorian, ciao Samuele, ciao Jacopo, da Luigi e da mister Dorian, fagli vedere le ali, fagli vedere. Wow, e saluta Dorian con la mano, saluta, bravo, con la mano, saluta con la mano, d'accordo. Ciao Samuele, ciao Samuele, ciao Jacopo, pronto per volare Dorian? Uno, due, via! Eccolo qua, hai salutato i nostri amici? E vieni da vicino, vieni a salutare i nostri amici, vieni. Allora, facciamoci sentire almeno, alzo la testa, vieni qua. Ciao Samuele, ciao Jacopo, adesso Doria vi fa sentire il cagnolino, e io gli faccio le domande, lui deve rispondere. Vieni qua Doria, come fa il cagnolino? È la pecora? Bravo. Ciao, no, sto salutando a Samuele e a Jacopo, vuoi salutare pure tu? Saluta, saluta. Oh, è stato da fare, ciò da fare, d'accordo. Ciao Samuele e ciao Jacopo, da Mr. Dorian che fa l'arteleno. Bravo Doria! Bravo. dorian io ho un'idea vuoi fare anche lo scivolo allora dorian vuoi fare lo scivolo questo qui metti di qua lo metti di qua fai lo scivolo mi raccomando venimi sulle spalle scivola vai dorian allora tu stai qua dai aspetta eh io mi siedo qua pronto per scivolare vai fatti coraggio dai vai venite papà va qua sul cappello vai pronto fatti coraggio vai bravo ma è stato bravo è stato bravissimo è bello com'è dorian lo the door va mamma come sono io tutto mamma mamma vai voilà fazer Mi fa male. Mi fa male. Mi fa male. Mi fa male. Ma come c'è? Ma mi fa male. Com'è Dorian? Sono i cagnolini che usano. No, dai un bacetto. No, no, rifacciamo lo scivolo assolutamente. Forza, mettiti qua. Aspetta, io mi siedo. Pronto? Vai. Dove vai? Vieni. Vieni, Doria, vieni. Doria. Ma non mi penso più. Ma che sta combinando Dorian? Che combina? E quelle sono le giostrine di Doria. D'accordo, divertiti. Ciao, Samuele. Ciao, Jacopo. Ciao.